il sistema solare è formato da una stella il sole attorno alla quale orbitano numerosi corpi celesti otto pianeti con i loro satelliti migliaia di asteroidi moltissimi meteoridi miliardi di masse ghiacciate e danno origini alle comite i pianeti sono accomunati tra le seguenti caratteristiche forma pressoché sferica moto di rivoluzione attorno al sole molto di rotazione attorno un asse asse inclinato rispetto al piano dell'orbita